Gli aggettivi possessivi in tedesco si declinano secondo i quattro casi, nominativo, genitivo, dativo, accusativo. In questa lezione impareremo quindi gli aggettivi possessivi che si declinano secondo il nominativo. Mio si traduce per il maschile e il neutro in mein, per il femminile e il plurale in meine. Tuo si traduce per il maschile e il neutro in dein, per il femminile e il plurale in deine. Mio mein meine, tuo dein deine. Mio fratello mein Bruder, mia madre meine Mutter, il mio libro mein Buch, I miei libri, meine Bücher. Bruder, fratello. Essendo singolare maschile si usa mein, mio fratello mein Bruder. Mutter, madre. Essendo singolare femminile si usa meine, mia madre meine Mutter. Buch, libro. Essendo singolare maschile si usa mein, il mio libro mein Buch. Libri, Bucha. Essendo plurale maschile si usa meine. I miei libri, meine Bücher. Tuo fratello, dein Bruder. Suo sua di lei si traduce con sein, per il singolare maschile e il neutro. Seine, per il singolare femminile e il plurale sia maschile che femminile. Suo sua di lei si traduce con ia, per il singolare maschile e il neutro. Ir, per il singolare femminile e il plurale sia maschile che femminile. Ad esempio, il suo libro riferito a Pietro, sein Buch. Il suo libro riferito ad Anita, ihr Buch. Quindi, se ci si riferisce a una persona maschile, si usa sein o seine. Se ci si riferisce a una persona femminile, si usa ihr oppure ihr. Il suo libro, sein Buch. Sua sorella, seine Schwester. Il suo cane, sein Hund. I suoi cani, seine Hunde. Nostro, per il maschile e il neutro. Unza, per il femminile e il plurale sia maschile che femminile. Unzer. Vostro, per il maschile e il neutro. Oia, per il femminile e il plurale sia maschile che femminile. Oira. Nostro fratello, Unza Bruda. Nostra madre, Unzere Mutta. Il nostro libro, Unza Buch. I nostri libri, Unzere Bücha. Vostro fratello, Oia Bruda. Vostra madre, Oira Mutta. Il vostro libro, Oia Buch. I vostri libri, Oira Bücha. Loro, per il maschile e il neutro, Ia. Per il femminile e il plurale, maschile e femminile, Ir. Il loro fratello, Ia Bruda. La loro madre, Ia Mutta. Il loro libro, Ia Buch. I loro libri, Ia Bücha. Ora ripassiamo il verbo essere con l'uso degli aggettivi qualificativi. Du bist gut, tu sei bravo. Du vast gut, tu eri bravo. Ia seid böse, voi siete cattivi. Ia vat böse, voi eravate cattivi. Ia ist zufriedna, lui è soddisfatto. Ia va zufriedna, lui era soddisfatto. Ia sind nicht zufriedna, loro sono non soddisfatti. Ia waren nicht zufriedna, loro erano non soddisfatti. Ia ist böse, lui è cattivo. Ia va böse, lui era cattivo. Ich bin dünn, io sono magro. Ia war dünn, io ero magro. Sie ist nicht dünn, lei è non magra. Sie war nicht dünn, lei era non magra. Du bist schuchtern, tu sei timido. Du vast schuchtern, tu eri timido. Er ist nicht schuchtern, lui è non timido. Ia war nicht schuchtern, lui era non timido. Sie ist simpatisch, lei è simpatica. Sie war simpatisch, lei era simpatica. Sie sind simpatisch, loro sono simpatici. Sie waren simpatisch, loro erano simpatici. Wir sind nett, noi siamo belli. Wir waren nett, noi eravamo belli.